Qui nella Piana di Milazzo è chiaro che abbiamo le primizie legate all'agricoltura, ma ugualmente incidente in maniera fortissima sull'economia del florovivaismo. Sappiamo che il reddito prodotto da queste attività già sul territorio è enorme, ma sappiamo pure che le potenzialità sono ancora di più e quindi ancora una volta ricordiamo il PNRR, ricordiamo queste risorse importanti, perché quello che è necessario è convincere i nostri giovani che si può scommettere su questo e quindi cambiando la prospettiva, cambiando il modo di visione della politica con il suo servizio alla collettività, possiamo veramente dare un'opportunità seria di crescita alla nostra Sicilia, ma soprattutto al nostro territorio.